Ben ritrovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Cesare Martignone. Si registrano code per traffico congestionato. Tra Ronco, Bilaccio e Calenzano in direzione a Roma si registrano code a tratti e rallentamenti. In A12 in direzione a Rosignano presso il casello di Rosignano si registrano code per traffico intenso. In FIPD per lavori tra Ginestra Fiorentina e la Stassigna nell'arco della giornata possibili rallentamenti con tendenza all'aumento in entrambe le direzioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni sui nostri canali social. Buon viaggio! Grazie per la visione!